Tunisiani avete capito bene questa è una specie di tutorial una cosa che io non ho mai fatto che però adesso farei oa Quindi allora cos'è che cercavo di dire non lo so nemmeno io però praticamente cos'è questa cosa dovrebbe essere un tutorial di come costruire una casa in vanilla Ovviamente io sto utilizzando questi materiali ma voi potete utilizzare i materiali che vorrete che preferirete utilizzare per le vostre costruzioni magnifiche bellissime Lo so prima o poi guardate che io so che magari quelli che cercheranno non lo so magari stanno cercando delle idee oppure stanno cercando questo video perché non sanno costruire E beh giustamente e però cioè guardate che potrete imparare tutti possono imparare alla fine Vabbè io sto utilizzando ripeto questo materiale che è vanilla perché potete andare a prenderlo però magari è un po' difficile da prendere Non so dipende se volete il nether insomma se andate nel nether oppure no Allora questa è una casa abbastanza semplice ed è molto quadrata Allora se voi non volete le case quadrate semplicemente fate una cosa Allungate tipo così ok e poi tipo collegate questa parte e questa parte così E poi la protraete addirittura per così mamma mia e poi fate un tetto che capite Però questa questa casa deve essere abbastanza semplice perché comunque non lo so voglio Eh però sentite i rumori dei blocchi del nether che sono bellissimi porca miseria Veramente i blocchi del nether sono davvero bellissimi Allora però una casa cos'è che deve avere deve essere funzionale Cosa vuol dire? Una casa in vanilla perlomeno deve essere funzionale Cosa vuol dire? Vuol dire che magari per la casa vanilla Utilizzerete molto dello spazio sicuramente per le ceste Ok per le ceste quelle là classiche E magari invece utilizzerete parte dello spazio tipo due blocchi solamente per il letto Dove potrete dormire perché tanto non è che vi serve una camera da letto No? Cioè in vanilla cos'è che vi serve a voi? Vi servono determinate cose no? Come per esempio tanto spazio nelle casse Eh no? Ovviamente a me serve sempre in vanilla tanto spazio per le casse Poi non lo so magari ognuno ha la sua visione delle cose Qua io direi di fare una specie di vetrate molto grandi Ok? Sono molto belle questo tipo di vetrate Ma non lo so in questo video allora visto che non sono abituato a fare questo tipo di video no? Mi serve una specie di signore che ti viene a vendere a casa Tipo avete presente il signore? No vabbè non faccio nomi perché non voglio essere denunciato però Però insomma cioè è una serie di signori abbastanza discutibili direi anche no? Che vi vengono a vendere determinati oggetti a casa È abbastanza imbarazzante come cosa comunque Non so se anche a voi capita magari quando parlate con i vostri amici non lo so E io qua sto facendo un casino che porca miseria Ma non si può non fare un casino no? Allora adesso ci serve il glass Ok glass Noi potremmo utilizzare un glass visto che questo è tutto azzurro Un glass giallo perché il glass giallo no? Voi sapete che l'azzurro e il giallo sono colori no? Che si oppongono Tutti quanti avversari no? Che si prendono a diciamo a pugni E quindi sono molto cattivi questi glass E quindi capito Il giallo e l'azzurro diciamo crea questo contrasto molto bello Allora Oh guardate che bello Secondo me il giallo e l'azzurro crea un contrasto Certo da fuori andrebbe leggermente cambiato qualcosa Perché ovviamente non è che possiamo lasciarlo così Siccome Sembra Qualcosa di molto brutto Cioè nel senso Non so che caspita sembra Sembra una specie di cartolina Allora però sicuramente manca una cosa Manca il tetto no? Quindi stairs Perché Allora Concentriamoci prima sul fuori no? No noi sul fuori cos'è che abbiamo? Le stairs ok? Che sarebbero le scale? Porca miseria Devo svegliarmi Perché sennò qua Madonna mia Ok ce la posso fare Allora Quindi queste scale Perché voi sapete che il mio Il mio modo di fare video È senza fare i tagli Ok perché I tagli secondo me danno un po' di fastidio ai video Infatti secondo me avete già notato un taglio Però Perché lì avevo detto una cosa che non si poteva dire E quindi Ho dovuto tagliare il video Se volete guardate io ve ne lascio un po' Qua Nelle schede Non so dove Vabbè Andate voi a vedere Praticamente qua Dobbiamo utilizzare Dovremmo sfruttare Tutta questa Questa situazione no? Di scale Che creano questo tetto Mi sento un agente immobiliare No? Un agente immobiliare Avete presente Quei tipi di agenti immobiliari Che vanno lì a fare Allora Qui abbiamo La vetratta Che è molto grande Poi però Abbiamo anche tua sorella Visto che possiamo prenderla L'abbiamo presa E abbiamo fatto cose Indicibili Con tua Con sua sorella Insomma Cose che Veramente brutte Dei agenti immobiliari Abbastanza Cattivi Questi Scherzo Adesso mi denunciano Pure loro Cosa sono questi rumori? Domanda Beh chissà cosa saranno Questi rumori Non voglio saperlo Giusto per inciso Dunisiani Anche voi che mi seguite Da tempo Fatemi sapere Se volete vedere Altri di questi video Altri di questi Episodi Bellissimi Che io sto portando In questo momento Proprio perché Secondo me È bello Costruire insieme A voi magari Potrebbe piacere Come potrebbe non piacere Fatemi sapere Se vi piacere Oppure no Se volete che io Porca miseria Se volete che io porti Ma por Se volete che io porti Altri di questi video Fatemelo sapere Qua sotto Nei commenti Ora Questa casa Sembra la casa Di una strega Siete contenti? Cioè Non so se mi è venuto Molto bene Però allora Tranquilli che adesso Sicuramente La situazione Vabbè Almeno da fuori Sembra la casa Di una strega Ma da dentro Da dentro Porca miseria Sembra la casa Di una persona Molto simpatica E bella Io però farei una cosa Sostituirei Ma por Io non riesco a parlare Oggi Sostituirei Sostituirei Questo pavimento Giallo Con questo pavimento Azzurro Con questo pavimento Giallo Perché Perché secondo me È molto bello No? È molto meglio Così secondo me Certo queste finestre Non è che ci siano molto Ma vabbè Facciamo finta di niente Allora praticamente Cos'è che dicevo io prima Con il fatto di essere No più Funzionali Nel senso che Il lettino Fate così guarda Bed Allora Prendete il bed Di qualsiasi colore Voi vogliate Per esempio Io lo prenderò Azzurro E poi Lo mettete tipo In un angolo Comunque In una parte Molto Oscura Molto estrema Molto coperta Della casa In una parte Che non serve A nessuno Poi Tutta l'altra parte La utilizzate per le ceste C'è un altro segreto Che voi potete utilizzare Un segreto abbastanza magico È bello Scherzo Non è magico È bello Perché Lo sa Lo sa Cioè Non è che lo sa chiunque Però insomma Voglio dire No concrete Prima di tutto concrete Questo segreto È appunto Di costruire In profondità Perché Perché Da fuori La casa Magari deve essere Sì esteticamente carina Ma ripeto In vanilla La casa deve essere funzionale Se no Voi A parte che Non stavate vedendo niente Se no Capite Non è molto bello Quando la casa Non è funzionale Perché Immaginatevi Voi State tornando Da una lunga Spedizione E Avete Avete La casa Piena di Di ceste No Piena di Di letti Però Non avete Le ceste Dove poter Mettere Le cose Che avete Preso Dalla spedizione Ebbene Non è bello Secondo me Secondo me Molto frustrante Una cosa Di questo tipo Allora Perfetto Ho completato La stanza Però Allora Io uso La glowstone Che fa Mi fa abbastanza schifo Per le costruzioni A me la glowstone Nel senso Se a voi non piace Vi capisco perfettamente Non usatela Però io Come esempio Piuttosto Utilizzate le Lampade di redduston Che secondo me Sono molto carine Però ecco Anche quello Cioè nel senso Dovete andare nel neder Eccetera Dipende Se volete Se non utilizzate Le torce normali Che sono Ecco A me non è che piacciono Molte le torce normali Perché sono Ingombranti E schifose Allora Cest Allora Evitate di mettere Le trappe Le trappe De cesta A meno che non vi vogliate Far esplodere Tutta la casa Allora Questa qua È la parte Dello storage No Nel senso Vabbè Magari poi Potete alzarla Quanto volete Eccetera Potete fare una serie Di cose Vedete Cioè tutta una cosa così No Potrebbe essere Una cosa molto carina Questa qua Allora Praticamente Questo è lo storage Molto veloce Molto piccolo Ma molto funzionale Secondo me E Praticamente Potrete con Dei Cosi Potrete segnare Tipo con dei cartelli Oppure dei Frame Cosi Esatto Con dei frame Item frame Esatto Non mi veniva il nome Ecco Potrete Contrassegnare Questa casa Con le varie cose Una cosa Di cosa così Allora Cos'è che potete fare Vabbè Insomma Potete Spaziare Dalle più Interessanti Situazioni Ad altre Però comunque Sono molto cringiato Perché io non ho mai fatto Questo tipo di Di video L'ho ripetuto Per l'ennesima volta Però Boh Se volete vedere Altri miei tipi di video Potete andare a vederli Vabbè Praticamente La cucina potrebbe essere Una sorta di cosa così Vedete Magari da questa parte Questo Ci mettete da quest'altra parte Quest'altra parte Magari Togliete anche queste finestre Che fanno davvero cagare Ho avuto un'idea Orribile Veramente stupida Questa qua Assolutamente Stupidissima Come Come Bonso Qualcosa Non so Però Insomma Potete utilizzare Queste fornaci Tutto in questo senso Qua Poi magari Qua ci mettete Una crafting table Visto che La casa In vanilla Ripeto Deve essere Molto funzionale Poi potete Certo seguire Questo uno stile Tutto quanto Però L'importante È che voi Diciamo Vi concentrate Sull'utilità Della casa Anche perché Se poi Ovviamente Poi voi potrete Anche avere un mondo Molto bello Pieno di cose Pazzesche Però già una casa Di questo Calibro Ovviamente Magari un po' più Esteticamente carina Di così al di fuori Diciamo Potrebbe esservi utile Tipo qua Com'è che Eh qua Già cambia molto Vedete Qua in parte Già è molto più carina Secondo Oddio Dipende dai gusti A me Non so se piace Sapete perché È molto lunga Sembra la casa Di una strega Oltre che Sembra anche Qualcos'altro Che non dico nemmeno Per evitare Di Diciamo Distruggere Il family friendly E Per evitare Di farmi bannare Completamente Il canale Sarebbe una buona idea Duni Sai tu che dici Eh beh Bello Bello Anche perché Sei solo all'inizio Già partire con questo piede E non è molto bello Vabbè Insomma Allora Uh Per esempio Questo potete utilizzare Anche le sealantern In effetti Le sealantern Ragazzi Sono davvero Eleganti Cioè voi potete utilizzare Le sealantern Però ripeto Questa cosa Non c'è In vanilla Potete Allora Porca miseria È uno schifo Così Allora In vanilla Dovete cercarli Questi Questi oggetti Voi per esempio Potete andare Nel nether A cercare La glowstone Nelle strutture Del land A cercare Tutte queste sealantern Eccetera Non nelle strutture Del land Insomma Nei cosi Sottomarini Là Nei templi Sottomarini Però se voi Non andate A cercare Queste cose Non ce le avete Semplicemente Perché appunto È vanilla Oppure Cittate Come fanno La maggior parte Delle persone E anche quello Ci sta Dipende un po' Dai gusti Io qua però Non metterei Nessuna trapdoor Perché mi fanno schifo E l'importante Qua è metterci altre cose Per esempio Cos'è che ci possiamo mettere Per far Una cosa Funzionale Ovviamente Ci potrebbe essere L'enchantment table Per esempio Però la serve La libreria Una cosa così piccola Non è che ci sta Tanto ecco Cioè nel senso Dove caspita la metti Per esempio Cioè per dire Oppure Cos'è che ci deve essere Una casa di minecraft Io nelle case di minecraft Quando gioco a minecraft Oltre allo storage Oltre alla cucina Oltre alla camera da letto Utilizzo Diciamo varie farm Quindi potrete andare Qua sotto No E prolungare Tutta questa parte qua Con delle farm No E Qua all'entrata Io ci metterei Assolutamente subito Una chest Perché appunto Deve essere Funzionale Una crafting table La metterei Dall'altra parte Quindi crafting table Che in teoria Ce l'ho già nell'inventario Ma vabbè Io sono un pochino Strano No scherzo E poi ci metterei Anche un armor stand Perché un armor stand Voi direte È perché Immaginatevi No Che voi venite Da un lungo viaggio E non volete distruggere La vostra bellissima Dicevo La vostra bellissima armatura Di nederite No Il nuovo materiale Oppure di diamante Quello che volete Il nuovo materiale Insomma Che hanno aggiunto Nella 1.16 Che è la nederite Che è Diciamo Il materiale più potente No Eeeh Pure tutto sto achievement Grazie mille Molto gentile Insomma Più o meno Allora praticamente Voi mettete Questa nederite Qua Con questa armatura Di nederite Fate Oh che stanchezza Oggi E poi mettete L'armatura qua Oppure tipo Quando vi svegliate La mattina Ma porca miseria Ma porca Sto facendo un casino Perfetto no Allora Quando vi svegliate La mattina Stavo dicendo Prendete l'armatura E ve la mettete No E beh beh Molto Molto intelligente Come cosa Ma e poi Potrete anche creare Tipo una specie di lore No Intorno a tutta Tutta questa cosa Poi Secondo me Questa dovrebbe essere Tipo la La cassa no Tipo dei rifiuti Che farà lo smistamento Cioè tipo Arrivate in casa Subito va E boom E poi mettete Le cose che non vi servono Qua che tanto Dite basta Che schifo Ma non ne posso più Di questa Di questa giornata È stata veramente Faticosa Una cosa veramente Pazzesca Andrò a cucinarmi Il pesce Oppure andrò A smistarmi Le cose Nello smistamento Del Del Cosa Sì 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 Esatto Poi qua Oltre che andare In questa direzione Potrete andare Anche in questa Insomma Questa è una casa Comunque molto carina Molto piccola Cioè carina Oddio dipende dai gusti È abbastanza soggettiva Come cosa Sinceramente Allora sinceramente Io farei una cosa Perché questa parte qua Mi sembra tipo Avete presente i vecchi Telephone Ecco già Così è più carina Devo dire Insomma parolone Questo Che il fatto che sia più carina Però Possiamo renderla più carina Anche fuori Vedete così Vabbè Però possiamo anche Anche da questa parte No Renderla così No Cioè tipo così È molto Molto meglio Secondo me così No Dico io Vabbè Sì Dai Cioè devo dire Che ci sta Allora questa cosa Non è Questo video Ovviamente Duniziani Non ve lo dico nemmeno Non ve lo dico nemmeno Non è un tutorial Cioè nel senso Non è Una cosa che io Vi voglio insegnare Come fare le case Anche perché Per primo faccio Abbastanza Non è che faccio schifo Fare le case Però insomma Diciamo che Mi devo mettere là A pensare A creare tutto un progetto No in mente Cosa che Chiaramente per questo video Non ho fatto Se volete vedere Altre di questi video Io ve li porto Volentieri Se voi li volete vedere Però ecco Forse così Già è meglio Perché Vedete Segue pure Una specie di No Di cosa Tutto quanto così Secondo me Già così è meglio Secondo me Eh beh Devo dire Tutto sommato È meglio Secondo me Di prima Vedete che poi Lavorandoci su Aggiungendoci Di cose Dettagli Dettagli Eccetera Aumenta e diventa Sempre più Bellina Poi qua Al secondo piano Potrete metterci Quello che vorrete Insomma Comunque Deniziani Fatemi sapere Se volete Vedere altri Di questi video Se li volete Vedere Mi raccomando Scrivete nei commenti Che li volete vedere Mi raccomando E mi raccomando Ricordatevi pure Di iscrivervi al canale O creature Bellissime Simpaticissime Ricordatevi Di iscrivervi al canale E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Deniziani